Il rugby all'Aquila è storia, il rugby all'Aquila ha tanta tradizione. Nel 1994 l'ultimo dei cinque scudetti. In quell'Aquila Rugby in campo c'era Gino Troiani e in panchina c'era Massimo Mascioletti, che sono due dei grandi protagonisti di questo nuovo progetto che negli anni vuole riportare l'Aquila Rugby nell'elite. Sì, ho avuto la fortuna di essere contattato dall'Aquila Rugby Sportiva perché si vuole fare un progetto un po' diverso di quello che è stato il decorso degli ultimi anni e per me è un ritorno a casa e sicuramente è un grande onore portare avanti un club che è stato portato avanti da personaggi storici del rugby aquilano. Cinque scudetti, Troiani l'ultimo con te protagonista in campo. La domanda è quanto tempo ci vorrà affinché l'Aquila si riavvicini a quel livello? Ma ci vorrà sicuramente un medio o lungo periodo ma non riguarda soltanto la polisportiva, riguarda il rugby aquilano anche perché sull'Aquila ci sono delle realtà che hanno lavorato in questi anni e che hanno raggiunto anche buoni risultati per il Paganica in serie A. Però credo che una fattiva collaborazione della società possa accelerare questo processo però questo è un discorso che può verrà affrontato nel corso dei prossimi mesi, nei prossimi anni con le sollecità che operano sul territorio. A proposito del 94 vorrei anche dirvi che mi sto facendo promotore per il prossimo anno, saranno 30 anni da quella storica giornata del 23 aprile 94 e mi sto facendo promotore per organizzare una serie di eventi all'Aquila che non sia assolutamente celebrativa e quindi non vuole sicuramente ricordare e saltare il passato ma che possa essere di spunto e di opportunità per le società che operano il territorio per ridare entusiasmo alla città e al rugby. Tanti gli attori protagonisti di questo progetto, c'è anche Massimo Mascioletti. Sì, credo che io ho avuto la fortuna di averlo come allenatore sia in nazionale che all'Aquila e credo che sia uno dei più grandi tecnici formatori che l'Italia abbia mai avuto. Noi abbiamo la fortuna di averlo all'Aquila e quale migliore occasione per chiedergli appunto di rientrare con un ruolo di formazione sui tecnici e didattica in modo che possa trasferire il meglio che c'è ai nostri tecnici e di conseguenza ai nostri ragazzi per farli crescere in un percorso di alto livello. Bocca al lupo, Troia! Vive il lupo!